Lo spirito è quello buono, diciamo, con buoni propositi, è normale che alla mia età spostarsi vuol dire che lo spirito è ancora vivo. Cioè hai pensato conto, ti sono arrivati altre offerte? No, no, ho ricevuto l'offerta del Bari, ho insistito molto, quindi quando comunque una società insiste su un giocatore vuol dire che c'è molta volontà. In questo il direttore sportivo è stato molto bravo, sono stato combattuto ma non per la scelta del Bari, per altri motivi che poi sono stato scattato. La partita l'ho vista, il ritiro con il Bologna, la partita l'ho vista e comunque è una squadra che è nuova, ha allenatori nuovi, giocatori nuovi, quindi il tempo ci vuole per assentare. L'anno scorso c'eravamo a tre a centrocampo, quindi faceva più la mezzala, a volte ho fatto anche il registro, quindi dipendeva anche dalle circostanze. Quindi ora mi serve, ho visto che stavo utilizzando un 4-4-2, quindi è un po' diverso. Sicuramente porto un po' di esperienza in più rispetto ad altri, però io ho fatto, la B l'ho fatta, ho fatto anche la C, quindi ho fatto un po' di gavetto. Quindi non è il problema di categoria, è sempre comunque lo spirito che ci vuole nelle cose che si fanno.